Abbiamo iniziato il percorso sinodale e il percorso sinodale è un percorso spirituale per ascoltare, ascoltarci gli uni gli altri, ascoltare come lo Spirito Santo ci parla oggi nella Chiesa, le sue chiamate. Per questo Click2Pray ha dovuto fare le modifiche per aiutare a entrare in questo processo più in profondità, come? Primo aiutando a mettere più nella luce tutte le richieste di Papa Francesco, possano essere molto visibili qualsiasi pagina, qualsiasi via dove si entra in Click2Pray. La prima cosa che si vede sono le proposte di preghiera di Papa Francesco ogni volta che ha bisogno della nostra preghiera di tutta la Chiesa universale. C'è anche adesso la possibilità di pregare per la Chiesa locale, per l'intenzione preghiera delle conferenze episcopali. Questo è molto nuovo perché fino adesso non c'era, è una forma per pregare per la Chiesa locale in questo momento di questo percorso sinodale. Alla fine c'è sempre una notifica che raggiunge l'utente. Puoi scegliere tu stesso la notifica al momento che vuoi scegliere, puoi programmarlo nel tuo orario perché sia il momento dove sei più disponibile per prendere un momento di preghiera per la Chiesa sinodale, per l'intenzione preghiera del Papa, per la Chiesa locale, secondo le tue scelte. Quest'ultima versione dell'app Click2Pray ha al suo interno alcuni contenuti provenienti dal nuovo sito web di preghiera per il sinodo. Come funziona questo servizio? Chi entra trova una serie di preghiere in cinque lingue e chi desidera invece pubblicare una preghiera deve scrivere alle email di riferimento linguistiche e noi ci prendiamo cura poi di pubblicare le preghiere. La cosa originale è che saranno alcune in evidenza e saranno quelle che condivideremo anche, connetteremo con l'applicazione Click2Pray del Papa e nei social sia della WISG sia di Click2Pray. È tutto connesso come la rete, quindi chi sta sull'applicazione può arrivare al nostro sito, chi sta sul sito può andare sull'applicazione. Alcune preghiere saranno rimandate anche sull'applicazione. Questi mezzi non sono semplicemente qualche giocattolo, diciamo, di tecnologia, ma che entrano dentro della cultura, della maniera di vivere dell'essere umano oggi. E quindi il valore è questo, aver capito dove circolano le persone e quindi poter fornire pure in questi nuovi spazi dove la gente vive, dove la gente pensa, dove la gente condivide, poter offrire gli strumenti proprio per la vita spirituale.